Ci siamo? Sì, bene amici, anzi benissimo amici perché finalmente l'Inps si è data una svegliata anche con il REM reddito di emergenza, domande al via. Parliamo anche di questo fantomatico aumento per i nuclei in affitto, delle tempistiche, delle circolari e poi velocissimi sull'ennesimo di nuovo fintissimo aumento ma questa volta per RDC. Insomma io sono Mr. Lul, se mi date una manciata di minuti, vi spiego tutto, per bene, sigla, mi raccomando un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Reddito di emergenza, finalmente l'Inps, come potete anche vedere in sovraimpressione, si è nuove domande. La procedura sarà quindi pronta per settimana prossima, mercoledì, e si potranno inviare queste istanze fino al 30 aprile. La cosa interessante di questo comunicato, inatteso ovviamente della circolare, è che si parla di articolo 12, che è quello appunto che parla di rem commi 1 e 2. Questa cosa ci fa pensare che tutti, anche i naspizzati, remmati, cioè le persone coinvolte dalla finta proroga naspi, dovranno presentare anche loro appunto domanda. Ma la conferma anche di questo aspetto, l'avremo al 100% solo quando uscirà la benedetta circolare, che evidentemente uscirà e sarà pubblicata a strettissimo giro, prima di mercoledì prossimo, cioè prima che vengano aperte le danze. Poi chiariamo velocemente un altro punto, sempre sul rem. In tanti mi chiedete conto di questo fantomatico aumento per i nuclei che si trovano in affitto. Chiariamo, non esiste alcun aumento dell'importo rem, che come sempre va da 400 a 840 euro a seconda della composizione del vostro nucleo. Semplicemente per le famiglie in affitto la novità consiste in un accesso più facile. Infatti, se normalmente per accedere al rem il reddito del vostro nucleo relativo al mese di febbraio deve essere sempre inferiore all'importo del rem stesso che vi spetterebbe, beh, questo paletto reddituale odioso sarà innalzato di una quota pari ad un dodicesimo del vostro canone annuale d'affitto, così da garantirvi un accesso che con le precedenti regole, beh, non avreste avuto. Nei fatti si va semplicemente ad allargare la platea dei beneficiari. In tema però di finti aumenti c'è qualcuno che ogni giorno su YouTube se li vende come confermati o ufficiali in materia però non di rem ma di reddito di cittadinanza. E poi tanti mi chiedete nei commenti se effettivamente è vero quanto viene riportato. Ovviamente non è vero, altrimenti ne avrei parlato anch'io. Guardate che non ci sono novità normative ad oggi sul calcolo degli importi RDC, né di incrementi della quota B, quella per l'affitto, né sulle scale di equivalenza. Queste sono tutte proposte fatte anche dallo stesso tridico nelle scorse settimane, ben lontane però dall'essere ufficiali o da una conferma nel breve periodo. Come sempre fate molta attenzione a chi seguite. Detto questo, come al solito, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Mi raccomando, un bel like per sostenere il video e il canale, iscrivetevi con la campanella e aspettiamo tutti assieme le circolari. A presto da Mr. Lul.